Chi non legge un pirla e questo è un invito alla lettura del libro di Armanès intitolato Siddhartha. Parte prima, il figlio del Bramino. Nell'ombra della casa, sulle rive soleggiate del fiume presso le barche, nell'ombra del bosco di Sal, all'ombra del fico crebbe Siddhartha, il figlio del Bramino, il giovane falco insieme all'amico suo, Govinda, anche egli figlio di Bramino. Sull'arriva del fiume, nei bagni, nelle sacre abluzioni, nei sacrifici votivi, il sole bruniva le sue spalle lucenti. Ombre attraversavano i suoi occhi neri nel boschetto di mango durante i giochi infantili, al canto di sua madre, durante i sacrifici, alle lezioni di suo padre, così dotto durante le conversazioni dei saggi. Già da tempo Siddhartha prendeva parte alle conversazioni dei saggi, si esercitava con Govinda nell'arte oratoria, nonché nell'esercizio delle facoltà di osservazione e nella pratica della concentrazione interiore. Già egli sapeva come si pronuncia impercettibilmente l'om, la parola suprema, sapeva assorbirla in se stesso pronunciandola silenziosamente nell'atto di ispirare, sapeva emetterla silenziosamente nell'atto di espirare, con l'anima raccolta, la fronte raggiante dello splendore che emana da uno spirito luminoso. Già egli sapeva, nelle profondità del proprio essere, riconoscere l'atman, indistruttibile, uno con la totalità del mondo. Il cuore del padre balzava di gioia per quel figlio così studioso, così avido di sapere. Era un grande sapiente, un sommo sacerdote quello che gli vedeva svilupparsi in lui, un principe fra i brahamini. La gioia gonfiava il petto di sua madre quando ella lo guardava, quando lo vedeva camminare, quando lo vedeva sedere e alzarsi. Siddhartha, così forte, così bello, che procedeva col suo passo snello, che la salutava con garbo così compito. L'amore si agitava nel cuore delle giovani figlie dei brahamini quando Siddhartha passava per le strade della città, con la sua fronte luminosa, con i suoi occhi regali, così slanciato e nobile nella persona. Ma più di tutti lo amava l'amico suo Govinda, il figlio del brahamino. Amava gli occhi di Siddhartha e la sua cara voce, amava il suo passo e il garbo perfetto dei movimenti. Amava tutto ciò che Siddhartha diceva e faceva, ma soprattutto ne amava lo spirito, i suoi alti generosi pensieri, la sua volontà ardente e la vocazione sublime. Sapeva bene Govinda, questo non diventerà un brahamino come ce ne tanti, un pigro ministro di sacrifici, o un avido mercante di incantesimi, un vano e vacuo retore, un prete astuto e cattivo e non sarà nemmeno una buona sciocca pecora nel greggio dei molti. No, e anche egli, Govinda, non voleva diventare tale, un brahamino come ce ne sono migliaia. Voleva seguire Siddhartha, il prediletto, il magnifico. E se un giorno Siddhartha fosse diventato un dio, se fosse asceso un giorno nella gloria dei celesti, allora Govinda l'avrebbe seguito, come suo amico, suo compagno, suo servo, suo scudiere, sua ombra. Così tutti amavano Siddhartha, a tutti egli dava gioia, tutti ne traevano piacere. Ma egli, Siddhartha, a se stesso non procurava piacere. Passeggiando sui sentieri rosati del frutteto, sedendo nell'ombra azzurrina del boschetto delle contemplazioni, purificando le proprie membra nel quotidiano lavacro di espiazione, celebrando i sacrifici nel bosco di mango delle ombre profonde, con la sua perfetta compitezza d'atteggiamenti, amato da tutti, di gioia a tutti, pure non portava gioia in cuore. Lo assalivano sogni e pensieri irrequieti, portati fino a lui dalla corrente del fiume, scintillati dalle stelle della notte e dardeggiati dai raggi del sole. Sogni lo assalivano, e un'agitazione dell'anima, evaporata dai sacrifici, esalante dai versi del Rig Veda, stillata dalle dottrine dei vecchi testi brahaminici. Siddhartha aveva cominciato ad alimentare in sé la scontentezza. Aveva cominciato a sentire che l'amore di suo padre e di sua madre e anche l'amore dell'amico suo, Govinda, non avrebbero fatto per sempre la sua eterna felicità. Non gli avrebbero dato la quiete, non l'avrebbero saziato, non gli sarebbero bastati. Aveva cominciato a sospettare che il suo degnissimo padre e gli altri suoi maestri, cioè i saggi brahmini, gli avevano già impartito il più e il meglio della loro saggezza. Avevano già versato interamente i loro vasi pieni nel suo recipiente in attesa, ma questo recipiente non si era riempito. Lo spirito non era soddisfatto, l'anima non era tranquilla, non placato il cuore. Buona cosa le abluzioni, certo, ma erano acqua, non lavavano via il peccato, non guarivano la sete dello spirito, non scioglievano gli affanni del cuore. Eccellente cosa i sacrifici e la preghiera agli dèi, ma questo era tutto? Davano i sacrifici la felicità? E come stava questa faccenda degli dèi? Era realmente pragiapati che aveva creato il mondo? Non era invece l'atman, l'unico, il solo, il tutto? Che gli dèi non fossero poi forme create come tu e io, soggette al tempo, caduche? Anzi, era poi bene, era giusto, era un atto sensato e sublime sacrificare agli dèi? A chi altri si doveva sacrificare? A chi altri si doveva rendere onore se non a lui, all'unico, all'atman. E dove si poteva trovare l'atman? Dove abitava? Dove batteva il suo eterno cuore? Dove altro mai se non nel più profondo del proprio io, in quel che di indistruttibile ognuno porta in sé? Ma dove? Dove era questo io, questa interiorità, questo assoluto? Non era carne e ossa, non era pensiero né coscienza. Così insegnavano i saggi. Dove? Dove dunque era? Penetrare laggiù, fino all'io, a me, all'atman. C'era forse un'altra via che mettesse conto di esplorare? Ahimè, questa via nessuno la insegnava, nessuno la conosceva, non il padre, non i maestri e i saggi. Tutto sapevano i bramini e i loro libri sacri. Tutto e perfino qualche cosa di più. Di tutto si erano occupati della creazione del mondo, della natura del linguaggio e dei cibi, dell'inspirare e dell'espirare, della gerarchia dei cinque sensi, dei fatti degli dèi. Cose infinite sapevano. Ma valeva la pena sapere tutto questo, se non si sapeva l'uno e il tutto, la cosa più importante di tutte, la sola cosa importante. Certo, molti versi dei libri santi, specialmente le Upanishad di Samaveda, parlavano di questa interiorità e di questo assoluto. Splendidi versi, la anima tua e l'intero mondo, così vi stava scritto. E vi stava scritto che l'uomo nel sonno, nel profondo sonno, penetra nel proprio io e prende stanze nell'atman. Meravigliosa saggezza stava in questi versi. Tutta la scienza dei più saggi stava qui radunata in magiche parole, pura come miele. No, non si doveva certo far poco conto della prodigiosa conoscenza che qui era stata raccolta e conservata da innumerevoli generazioni di bramini. Ma dove erano i saggi? Dove i sacerdoti o i penitenti, ai quali fosse riuscito non soltanto di conoscerla, questa profondissima scienza, ma di viverla? Dove era l'esperto che sapesse magicamente richiamare dal sonno allo stato di veglia l'esperienza dell'atman, ricondurla nella vita quotidiana, nella parola e nell'azione? Molti degni bramini conosceva Siddhartha, suo padre prima di tutti, il puro, il dotto, degno sopra ogni altro. Ammirabile era suo padre, nobile e calmo il suo contegno, pura la sua vita, saggia la sua parola, squisiti alti pensieri avevano dimora dietro la sua fronte. Ma anche lui, che tanto sapeva, viveva forse nella beatitudine, possedeva la pace? Non era anche lui soltanto un uomo che cerca, un assetato? Non doveva egli sempre riattingere come un assetato alle sacre fonti, sacrifici, libri, conversazioni dei bramini? Perché doveva anche lui, l'irreprensibile, purificarsi ogni giorno dal peccato, affannarsi per le abluzioni, sempre da capo, ogni giorno? Dunque non era in lui l'atman, non zampillava nel suo cuore la fonte originaria. Eppure era questa che bisognava trovare, scoprire la fonte originaria nel proprio io e impadronirsene. Tutto il resto la ricerca era errore e deviazione. Tali erano i pensieri di Siddhartha. Questa era la sua sete, questo il suo tormento. Spesso egli recitava a se stesso le parole di una Chandogia Upanishad. In verità Satyam è il nome di Brahma. In verità, chi sa questo, scende ogni giorno nel mondo celeste. Spesso gli pareva vicino il mondo celeste, ma mai l'aveva raggiunto interamente, mai aveva spento l'ultima sete. E di tutti i saggi edottissimi che gli conosceva, valendosi del loro insegnamento, non uno venera che l'avesse raggiunto interamente, il mondo celeste. Non uno che interamente l'avesse spenta l'eterna sete. Govinda, disse Siddhartha all'amico. Govinda caro, vieni con me sotto il banano, vogliamo esercitarci nella concentrazione. Andarono verso il banano, sedettero a terra. Qui Siddhartha, venti passi più in là Govinda. Mentre sedeva, pronto a pronunciare l'om, Siddhartha ripeteva, mormorando i versi. Om e l'arco, la saetta e l'anima, bersaglio della saetta e brama da colpire con immobile certezza. Quando il tempo consueto della concentrazione fu trascorso, Govinda si alzò. Era calata la sera. Era tempo di cominciare l'abluzione vespertina. Govinda chiamò Siddhartha per nome, ma non ottenne risposta. Siddhartha sedeva assorto. I suoi occhi erano fissati rigidamente sopra una metà lontana. La punta della lingua spuntava un poco fra i denti. Pareva che egli non respirasse. Così sedeva, immerso nella concentrazione, pensando l'om, l'anima indirizzata a brama come una saetta. E un giorno passarono in Samana, attraverso la città di Siddhartha. Asceti girovaghi, tre uomini secchi e spenti, né vecchi né giovani, con spalle impolverate e sanguinose, arsi dal sole circondati di solitudine, estranei e ostili al mondo, forestieri nel regno degli uomini come macilenti sciacalli. Spirava da loro un'aura di cheta passione, di devozione fino all'annientamento, di spietata rinuncia alla personalità. A sera, dopo l'ora dell'osservazione, Siddhartha comunicò a Govinda, domani mattina per tempo, amico mio, Siddhartha andrà dai Samana, diventerà un Samana anche lui. A queste parole Govinda impallidì e nel volto immobile dell'amico lesse la decisione, inarrestabile come la saetta scagliata dall'arco. Subito, al primo sguardo, Govinda si è reso conto. Ora comincia, ora trova Siddhartha la sua via, ora comincia il suo destino a germogliare, e con il suo il mio, e divenne pallido come una buccia di banana secca. O Siddhartha, esclamò, te lo permetterà tuo padre? Siddhartha sollevò lo sguardo come uno che si ridesta. Fulmineamente lesse nell'anima di Govinda, vi lesse la paura, vi lesse la parole. Domani all'alba comincerò la vita del Samana, non parliamone più. Siddhartha entrò nella camera dove suo padre sedeva sopra una stoia di corteccia. S'avanzò alle sue spalle e rimase là, fermo, finché suo padre si accorse che c'era qualcuno dietro di lui. Disse il brahamino, sei tu Siddhartha, allora di quel che sei venuto per dire. Parlò Siddhartha, col tuo permesso, padre mio, sono venuto ad annunciarti che desidero abbandonare la casa domani mattina e recarmi fra gli asceti, diventare un Samana, questo è il mio desiderio. Voglio il cielo che mio padre non si opponga. Tacque il brahamino, tacque così a lungo che nella piccola finestra le stelle si spostarono, e il loro aspetto mutò prima che venisse rotto il silenzio nella camera. Muto e immobile stava ritto il figlio con le braccia conserte. Muto e immobile sedeva il padre sulla stuoia e le stelle passavano in cielo. Finalmente parlò il padre. Non si addice a un brahamino pronunciare parole violente e colleriche, ma l'irritazione agita il mio cuore. Chi io non senta questa preghiera una seconda volta dalla tua bocca? Il brahamino si alzò lentamente. Siddharta restava in piedi, muto con le braccia conserte. Che aspetti? chiese il padre. Disse Siddharta. Tu lo sai. Irritato uscì il padre dalla stanza. Irritato cercò il suo giaciglio e si coricò. Dopo un'ora, poiché il sonno tardava, il brahamino si alzò. Passeggiò in su e in giù, uscì di casa. Guardò attraverso la piccola finestra della stanza e vide Siddharta in piedi con le braccia conserte. Non si era mosso. Come un pallido bagliore emanava dal suo mantello bianco. Col cuore pieno di inquietudine, il padre ritornò al suo giaciglio. E venne di nuovo dopo un'ora. Venne dopo due ore, guardò attraverso la piccola finestra, vide Siddharta in piedi nel chiaro di luna, al bagliore delle stelle e nelle tenebre. E ritornò ogni ora, in silenzio, guardò nella camera, vide quel ragazzo in piedi, immobile, e il suo cuore si riempì di collera, il suo cuore si riempì di disagio, il suo cuore si riempì di incertezza, il suo cuore si riempì di compassione. Ritornò nell'ultima ora della notte. Prima che il giorno spuntasse, entrò nella stanza, vide il giovane in piedi e gli parve grande, quasi straniero. Siddharta chiese, che attendi? Tu lo sai. Starai sempre così ad aspettare che venga giorno, mezzogiorno e sera? Starò ad aspettare. Ti stancherai, Siddharta? Mi stancherò. Ti addormenterai, Siddharta? Non mi addormenterò. Morirai, Siddharta? Morirò. E preferisci morire piuttosto che obbedire a tuo padre? Siddharta ha sempre obbedito a suo padre. Allora rinuncia al tuo proposito? Siddharta farà ciò che suo padre gli dirà di fare. Le prime luci del giorno entravano nella stanza. Il bramino vide che Siddharta tremava leggermente sulle ginocchia. Nel volto di Siddharta, invece, non si vedeva alcun tremido. Gli occhi guardavano lontano. Allora il padre si accorse che Siddharta non abitava già più con lui in quella casa. Siddharta l'aveva già abbandonato. Il padre posò la mano sulla spalla di Siddharta. Andrai nella foresta, disse, e diverrai un samana. Se nella foresta troverai la beatitudine, ritorna e insegnami la beatitudine. Se troverai la delusione, ritorna, riprenderemo insieme a sacrificare agli dèi. Ora va a baciare tua madre. Dille dove vai, ma per me è tempo di andare al fiume e di compiere la prima abluzione. Tolse la mano dalla spalla di suo figlio e uscì. Siddharta barcollò quando provò a muoversi, ma fece forza alle sue membra, si inchinò davanti al padre e andò dalla mamma per fare come suo padre aveva prescritto. Quando alle prime luci del giorno, lentamente, con le gambe indolenzite, lasciò la città ancora silenziosa, un'ombra, che era accucciata presso l'ultima capanna, si levò e sonì al pellegrino. Govinda. Sei venuto, disse Siddharta e sorrise. Sono venuto, disse Govinda. Presso i Samana. La sera di quello stesso giorno essi raggiunsero gli asceti, gli scarni Samana, cui si offersero compagni e discepoli. Vennero accolti. Siddharta fece dono del suo abito a un povero bramino incontrato sulla strada. Non portava più che il perizoma e una tonaca color terra, senza cuciture. Mangiava soltanto una volta al giorno e mai cibi cotti. Digiunò per quindici giorni, poi digiunò per ventotto giorni. Dalle cosce e dalle guance gli sparì la carne. Dai suoi occhi, smisuratamente ingranditi, parevano prendere il volo ardenti visioni. Unghie lunghissime uscivano dalle sue dita rinsecchite e sul mento germogliava un'arida barba stopposa. Gelido diventava il suo sguardo quando incontrava le donne. La sua bocca si contraeva con disprezzo quando egli doveva accompagnarsi con uomini ben vestiti. Vedeva i mercanti commerciali, i principi andare a caccia, la gente in lutto piangere i suoi morti, le meretrici far copia di sé, i medici affannarsi per i loro ammalati, i preti stabilire il giorno per la semina, agli amanti amare, le madri cullare i loro bimbi. E tutto ciò non era degno dello sguardo dei suoi occhi. Tutto mentiva, tutto puzzava, puzzava di menzogna. Tutto simulava un significato di bontà e di bellezza e tutto era inconfessata putrefazione. Amaro era il sapore del morire, la vita tormento. Una meta si proponeva a Siddharta. Diventare vuoto. Vuoto di sete, vuoto di desideri, vuoto di sogni, vuoto di gioia e di dolore. Morire a sé stesso. Non essere più lui, trovare la pace del cuore svuotato, nella spersonalizzazione del pensiero rimanere aperto al miracolo. Questa era la sua meta. Quando ogni residuo dell'io fosse superato ed estinto, quando ogni brama e ogni impulso tacesse nel cuore, allora doveva destarsi l'ultimo fondo delle cose, lo strato più profondo dell'essere, quello che non è più io, il grande mistero. Tacendo, Siddharta restava in piedi sotto il sole a picco, ardendo di dolore, ardendo di sete, finché non sentisse più né dolore né sete. Tacendo, stava in piedi sotto la pioggia. L'acqua gli cadeva dai capelli sulle spalle gelate, sui fianchi e sulle gambe gelate, e il penitente restava in piedi, finché spalle e gambe non fossero più gelate, ma tacessero e stessero chete. Tacendo, egli s'accoccolava sul giaciglio di spine, e dalla pelle riarsa gocciolava il sangue. Il marcio gemeva dalle piaghe, e Siddharta rimaneva rigido, immobile, finché più nulla pungesse, finché più nulla bruciasse. Siddharta si tirava su a sedere e imparava l'economia del respiro. Imparava a emettere poco fiato, imparava a sospendere la respirazione. Imparava, partendo dal respiro, ad assopire il palpito del cuore. Imparava a ridurne i battiti finché fossero pochi, e sempre più radi. Istruito dal più vecchio dei Samana, Siddharta praticò la spersonalizzazione, praticò la concentrazione secondo le strane norme di quegli asceti. Un airone volava sopra il boschetto di bambù, e Siddharta assumeva quell'airone nella propria anima. Volava sopra i boschi e montagne, era airone, mangiava pesci, provava la fame degli aironi, parlava la lingua gracchiante degli aironi. Moriva la morte degli aironi. Uno sciacallo morto giaceva sulla rena del fiume e l'anima di Siddharta penetrava in quella carogna. Era sciacallo morto, giaceva sulla spiaggia, si gonfiava, puzzava, marciva, era dilaniata dalle iene. Scuogliata dagli avvoltoi, diventava scheletro, polvere, si librava sulla compagna. E poi l'anima di Siddharta faceva ritorno, era stata morta, putrefatta, polverizzata, aveva gustato la torbida ebrezza del cerchio delle vite, e ora si tendeva ansiosamente per una nuova sete, come un cacciatore all'agguato verso lo spiraio per il quale si potesse sfuggire al circolo delle trasformazioni, dove si spezzasse la catena delle cause ultime e cominciasse la pace dell'Eterno. Egli uccideva i propri sensi, uccideva la propria memoria, sgusciava fuori dal proprio io in mille forme estranee. Era bestia, era carogna, era pietra, era legno, era acqua, e ogni volta si ritrovava al risveglio, splendesse il sole oppur la luna, era di nuovo quello stesso io. Rientrava nel circolo delle trasformazioni, sentiva sete, superava la sete, sentiva nuova sete. Molto bene, questo è tutto. Fatemi sapere se vi ho convinti a leggere questo meraviglioso libro. Ciao a tutti e alla prossima!